E' morta ieri sera all'età di 91 anni nella sua abitazione di Corso Garibaldi la professoressa Ida Abate, socio fondatore e primo presidente emerito dell'associazione Amici del giudice Rosario Angelo Livatino. Ida Abate, per circa 40 anni docente di lettere latine e greche al liceo classico Foscolo di Canicattì, ha avuto la singolare ventura di annoverare il giudice Livatino tra i suoi allievi. Ne ha raccolto cercando di trasmetterla ai giovani in particolare la nobilissima eredità di spirito. La professoressa Abate ha partecipato a numerosi incontri sul giovane giudice Rosario Livatino, assassinato nel 1990 dalla mafia agrigentina. Rosario Livatino era solita raccontare la professoressa Ida Abate e è diventato un punto di riferimento per i giovani, ma direi per tutti. L'ho conosciuto da studente al liceo classico, l'ho seguito quando frequentava l'università e anche dopo la laurea. Mi ricordo bene che nelle sue agende c'era sempre un dato, pendenza zero, sia quando lavorava all'ufficio registro che nella magistratura. Ciò vuol dire che faceva esclusivamente il suo dovere con impegno e fedeltà, ben sapendo a quali rischi andava incontro. Penso che se ognuno nel proprio campo cercasse di adempere con senso di responsabilità al proprio dovere, sino in fondo, al servizio degli altri, io credo che le cose potrebbero cambiare e migliorare. Molto spesso concludo i miei discorsi ai giovani ricordando quello che Robilano, regista del film Il Giudice Ragazzino, disse nel 1994. Questa nostra Italia, paese dei furbastri, dei pulcinella, dove ha la meglio chi grida più forte, è anche l'Italia dei Livatino e dei Seetta, di quegli eroi sommersi, ignorati, che non fanno notizia perché si muovono senza retorica e senza fanfare. Gente che compiono il loro dovere giorno dopo giorno, con fedeltà, con coraggio e anche con paura, specialmente nel campo della magistratura, la salvezza dell'Italia e nelle loro mani. La salvezza dell'Italia, affermava Ida Abbate, anche nelle nostre mani, dico ai giovani nella misura in cui ognuno, oggi come studenti, domani in tutti i campi in cui si possa essere inseriti, si faccia veramente la propria parte in quel modo, così come Rosario Livatino visse quella che per lui era una missione. Certo dispiace molto che abbia perso la vita in quel modo, con quello sparo in bocca, come a dire devi tacere per sempre. Però non hanno fatto i conti con qualcuno che vede molto più di noi, poveri uomini. Oggi però Rosario Livatino parla tanto quando mai avrebbe parlato in vita. Nell'album dei ricordi di Ida Abbate c'è anche la visita di Papa Giovanni Paolo II da Grigento che si è incontrato nel Palazzo Arcivescovile con i genitori di Rosario Livatino. Ero presente, presenti i genitori, il Cardinale Pappalardo e il nostro Vescovo Ferraro, racconta nelle sue testimonianze Ida Abbate. Il Papa ha detto semplicemente e testualmente così, è uno dei martiri della giustizia e indirettamente della fede. Solo questo. I funerali della professoressa Ida Abbate si svolgeranno oggi pomeriggio alle 17 nella chiesa di San Domenico, quella stessa chiesa dove Rosario Livatino era solito andare a pregare. Ciao Ida, raggiungi Rosario e digli che la sua morte non è stata vana.